Il più cordiale saluto da ETG, edizione marchigiana del nostro notiziario che, ricordo, va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di ETV, canale 12C, che in streaming sul nostro sito, ora inquadrato www.etvmarche.it. Notizie che trovate a giornate H24 anche sulla nostra pagina Facebook ETV Marche, così come sulla nostra app scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet ETV Marche. Apriamo questa edizione purtroppo con una notizia che abbiamo seguito anche attraverso diverse news e rilanci sui social. Parliamo della dramma di Senigallia, purtroppo con l'epilogo peggiore possibile. Per diverse ore ricerche di un quindicenne che era uscito di casa, pare scappato di casa ieri sera, armato. L'appello questa mattina alle scuole, non fate uscire gli studenti. Notizia che nel frattempo aveva anche fatto il Giro d'Italia, Corriere della Sera, Repubblica in particolare, seguivano la vicenda con notizie in aggiornamento. Pochi minuti fa la conferma che il ragazzino è stato trovato senza vita in un casolare nel senigallese. Anche questa notizia la trovate su ETV Marche.it. Ma per gli ultimi dettagli ci colleghiamo con la nostra collega Laura Meda che si trova sul posto e è pronta a collegarsi con noi. Sì, grazie Maurizio. La notizia che non avremmo mai voluto sentire è arrivata purtroppo questa mattina intorno alle 11.30. Il corpo del giovane scomparso ieri sera da Montignano di Senigallia è stato ritrovato senza vita in un casolare abbandonato in campagna sempre a Montignano. Il giovane appena a 15 anni si era allontanato da casa ieri sera intorno alle 8.30 dopo un litigio con il papà e purtroppo aveva anche rubato la pistola del padre vigile urbano a Senigallia facendo poi perdere le sue tracce. Le ricerche erano iniziate già ieri sera anche con l'uso di unità cinofile, poi droni e delicotteri. Secondo indiscrezioni il giovane aveva preso con sé il proprio telefono cellulare. Proprio dall'analisi delle celle si cercava di risalire a lui prima a Montignano e poi anche a Marzocca. Insomma si è mobilitato un intero paese con le ricerche che da ieri sera sono proseguite anche questa mattina fino purtroppo al tragico epilogo, la notizia che nessuno di noi avrebbe mai voluto dare. Da Montignano di Senigallia è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie Laura per ulteriori aggiornamenti siamo pronti anche ad altri collegamenti con te. Sono ore di apprensione anche per un altro giovane che risulta scomparso. Sono andati avanti tutta la notte e stanno proseguendo anche oggi nella zona di Sant'Anna del Furlo le ricerche di un ragazzo di 19 anni che non è rientrato a casa dalla notte di sabato. Il padre preoccupato ha dato l'allarme nel tardo pomeriggio di domenica quando l'auto del ragazzo chiusa è stata scoperta, parcheggiata lungo via Sant'Anna all'altezza della diga della centrale idroelettrica dell'Enel. Già nella serata di domenica sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Cagli e Pesaro vi terremo aggiornati, in questo momento le ricerche sono ancora in corso. A proposito di ricerche, terza notizia dello stesso tenore, questa volta parliamo di un 42enne di origini romene sparito nel nulla, mestiere pastore, scomparso oramai da nove giorni, in questo caso a lanciare l'allarme è stato il fratello, le ricerche sono in corso a Sant'Angelo in Pontano anche con l'utilizzo di cani e droni. Da nove giorni, ripeto, nel maceratese l'uomo non si faceva più trovare, ora le ricerche sono diventate a tappeto, anche in questo caso aggiornamenti speriamo positivi nelle prossime edizioni. Andiamo ora sul tema degli incidenti sul lavoro, giornata nazionale delle vittime sul lavoro, celebrata in queste ore, l'allarme però dell'ANMIL. Sentiamo. Nei primi sette mesi dell'anno in Italia ci sono stati 577 incidenti mortali sul lavoro. E non si ferma neanche la strage sul lavoro. Morti e infortuni sul lavoro in aumento nei primi sette mesi dell'anno. Aumentano in Italia gli infortuni sul lavoro e aumentano ancora di più quelli mortali, percentuali impietose quelle offerte dall'ANMIL nell'analisi dei dati INAIL degli infortuni registrati nel periodo gennaio-agosto 2024 rispetto al periodo gennaio-agosto 2023. 680 persone hanno perso la vita nei primi otto mesi del 2024. Nello stesso periodo del 2023 erano state 657. Nelle marche i dati degli infortuni mortali sembrano meno peggiori dei numeri nazionali. 10 deceduti nei primi otto mesi del 2024 a fronte dei 17 nel 2023. Pressoché invariati i dati degli infortuni totali denunciati intorno agli 11.000. Ogni infortunio resta comunque un infortunio di troppo. Quello che però preoccupa sempre di più è il dato delle malattie professionali che nella nostra regione fa segnare un aumento di oltre il 17%. Nella provincia di Ancona addirittura del 40%. Servono interventi urgenti, ribadisce l'ANMIL, che ha organizzato in questa giornata iniziative su tutto il territorio regionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. A Loreto anche una messa celebrata dal Vescovo Monsignor Dalcin e poi un momento di preghiera. questo è il servizio della collega Laura Meda. Cambiamo argomento a proposito però di un lavoro difficile e pericoloso come quello dei Vigili del Fuoco ma fatto con grande professionalità e attenzione. L'occasione nella giornata dedicata alle strutture aperte anche ai bambini di far conoscere questo mestiere e perché no far innamorare della divisa i più giovani. Mi è piaciuto di più schizzare l'acqua che mi ha fatto ridere perché quando io ho spruzzato sono andato tutti indietro. Quale camion ti piace di più? Tutti. L'autoscala e pure l'APS. Mi piacerebbe tanto fare il Vigile del Fuoco. Il resto è di più quello là. Ma ti piacerebbe fare il Vigile del Fuoco? Sì. Forse qualcuno di questi bimbi diventerà davvero un Vigile del Fuoco. Per tutti comunque resta un ricordo indelebile nella propria memoria insieme a molti utili insegnamenti. Serve per andare sulla neve oppure nelle zone dove gli altri mezzi non vanno. Vedi che c'ha tutti i cingoli? I Vigili del Fuoco non spengono solo incendi. Loro sono i nostri angeli custodi in ogni emergenza. Dalle frane alle alluvioni ai terremoti agli incidenti stradali. Sempre attenti e pronti a scattare in caso di allarme. Ogni intervento ha mirato anche un colore. Giallo, l'Igile del Fuoco è stata lave. Caserme dei Vigili del Fuoco aperte ad Ancona, Iesi, Arcevia, Osimo, Senigalia e Fabriano in occasione della giornata conclusiva della settimana nazionale della protezione civile. Un modo per conoscere da vicino le attività dei pompieri e approfondire il tema della sicurezza. Mostriamo i mezzi, li facciamo vedere come funzionano, per le cose più semplici, chiaramente poi in sala operativa li facciamo vedere le attrezzature per quanto riguarda le richiamate di soccorso. Un grande successo per Ancona. In tanti hanno preso parte all'iniziativa nella caserma di via Bocconi. Questo è il secondo anno che facciamo questa giornata di caserme aperte in provincia di Ancona e quest'anno veramente abbiamo avuto un afflusso da parte della cittadinanza incredibile. Abbiamo anche degli interventi in corso e comunque riusciamo a fatica veramente a seguire tutti. I bambini sono entusiasti, a noi ci fa un grandissimo piacere perché è un segno di vicinanza e di stima da parte di tutti. Torniamo alla cronaca dal Tolentinate. Incidente all'alba 21enne grave portato a Torrette. Incidente alle 5 di ieri mattina lungo la provinciale 77. Per causa in corso d'accertamento si sono scontrate due auto, quattro i feriti di cui uno trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Si tratta di una 21enne del luogo. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine per i rilievi. Parliamo di iniziative ora e ci spostiamo a Caldarola al Via Dialettiamoci 13. Tradizioni e risate a teatro. Presentata l'edizione 2024 del Festival di Teatro Dialettiamoci, giunta alla tredicesima edizione, la manifestazione che si svolgerà al Teatro Comunale di Caldarola vede la collaborazione della Regione Marche, della Wilt, dell'Unione Montana dei Montezurri e soprattutto dai cinque comuni Caldarola, Punto Cessa, Palombo, Campo Rotondo di Fiastrone, Belforte del Chienti e Serra Petrona. Ideatore del Festival e direttore artistico di ogni edizione Fabio Macedoni. In questa zona, in questi comuni ha qualche cosa di originale. Originale il dialetto sembrerebbe di no e però probabilmente sembrerebbe di sì in questo caso, vista anche finora e speriamo che continui l'affluenza che abbiamo avuto di tanto pubblico. Chiudiamo con il calcio e il punto sulla Serie C marchigiana. Rimandano ancora una volta l'appuntamento con la vittoria e impattano sull'1-1 Vispesero e Pineto. L'inizio gara è di marca ospite, al terzo ci prova del sole da fuori ma Vukovic è attento. La risposta dei padroni di casa è affidata al decimo al colpo di testa di Palomba, sugli sviluppi di un angolo che però non trova la porta. La partita pare bloccata con le due formazioni che peccano di lucidità negli ultimi metri. Al ventesimo l'episodio che accende la sfida, Bruzzaniti su punizione Beffa Vukovic con una traiettoria precisa che termina all'angolino. La Vispesero accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio. Al ventinovesimo uno scatenato Bruzzaniti orchestra la ripartenza e serve Germinario, il quale appoggia di tacco il pallone per la conclusione di Azio Osmanovic, su cui l'estremo difensore di casa è bravo a dire di no. Tuttavia nel momento più inatteso arriva al trentatresimo il pareggio della squadra di Stellone, passaggio illuminante di Paganini per Orejana che controlla in aria il pallone con un mancino delizioso batte Tonti. La rete risveglia dal torpore i marchigiani che spingono. Al trentacinquesimo Zoya entra in aria e calcia addosso al portiere in uscita. Al quarantacinquesimo altra occasione colossale per i biancorossi. Nicastro conclude con forza da dentro l'area piccola ma trova la grandiosa risposta di Tonti. La ripresa non regala troppe emozioni. Al cinquantasettesimo ci prova Fabrizi di testa ma il suo tentativo viene deviato in angolo da un difensore. Le occasioni più pericolose arrivano da palla inattiva. Al settantatresimo Cannavò sulla ribattuta della difesa si coordina e calcia sferando il palo. Due minuti più tardi è Di Paola direttamente su punizione ad impegnare severamente Tonti. I cambi dei due tecnici non sortiscono gli effetti sperati. All'ottantanovesimo Gambale regala l'ultimo sussulto dell'incontro con un colpo di testa che termina fuori. Finisce con un perentorio 3-1 in favore della Ternana il posticipo del girone B contro Lascoli. Primo tempo che si conclude sullo 0-0 ma con la Ternana certamente più pericolosa è decisamente più vicina alla marcatura. Le fere dopo una prima parte della frazione con poche idee creano almeno tre palle gol intorno alla mezz'ora di gioco. Prima è Curcio a calciare altissimo da ottima chance, poi sono Capuano e Cianci a sferare il vantaggio per i suoi. Secondo tempo che si apre col vantaggio della Ternana grazie al solito Cianci al sesto gol in stagione abili a ribadine in rete, una palla respinta da Livieri su tiro dal limite tentato da Curcio. La squadra di Abate gioca meglio e Lascoli accusa il colpo del gol subito. Al 64esimo infatti i rossoverdi riescono a raddoppiare con la rete di Curcio che ribadisce in rete una respinta non proprio entusiasmante di Livieri. I bianconeri provano a reagire ma sprecano molto in quelle poche occasioni concesse dagli avversari come il tentativo fallito da 40 da ottima posizione. Nel finale la Ternana chiude la contesa con la rete di Matteus sugli sviluppi di un angolo. Lascoli trova il gol della bandiera su rigore in extremis trasformato da corazza. Con il servizio di Andrea Fiano chiudiamo questa edizione regionale del nostro telegiornale. Tra poco la sintesi della nostra rassegna stampa. Vi ricordiamo purtroppo la notizia di ultimora. Confermiamo che è stato ritrovato ma purtroppo senza vita il quindicenne che era scappato di casa armato. Si era allontanato nella serata. Notizia riportata anche dai mezzi di informazione nazionale. Si sarebbe sparato con la pistola del padre. Ulteriori dettagli nei prossimi telegiornali di ETV Canale 12. Ecco la rassegna stampa.